Quando ero molto piccolo avevo 5 o 6 anni c'era una mia compagna di scuola che andava a lezione di danza in un piccolo centro sportivo a Trino Vercellese dove abitavo dove la mia famiglia abitava all'epoca e quindi ho iniziato un po' per caso un po' per gioco perché lei mi faceva vedere che cosa imparava alla lezione e giocavamo a fare le posizioni della danza i movimenti e mi sembrava tutto un gioco allora mi sono incuriosito ho iniziato a prendere qualche lezione erano due lezioni alla settimana dopodiché dopo un paio d'anni sono andato in un'accademia un po' più grande a Vercelli andavo tre volte alla settimana e dopo tre anni in questa accademia sono arrivato alla scuola della Scala quando avevo quindi 12 anni e ho iniziato qui tutto il mio percorso scaligero che poi mi ha portato insomma a diventare prima un ballerino etuale in tanti teatri però ho iniziato tutto per caso perché la mia famiglia non è una famiglia di artisti però devo dire mi ha sempre incoraggiato e supportato perché poi lasciare casa fin da piccolo quando avevo 12 anni la scelta di mandarmi a Scuola di Vallo a Milano da solo in questa realtà così grande così diversa da quella della provincia è stata una scelta abbastanza coraggiosa parli di passione, di talento ad un certo punto fai quella scelta che è un per sempre perché da lì in poi quella passione diventa anche un'ossessione nella ricerca del gesto nella cura del corpo diciamo che il tutto è cambiato quando poi sono entrato qui alla Scala in Scuola di Ballo perché una scuola così con otto corsi con tutti gli allievi focalizzati e tenuti insieme da un'unica passione un unico talento la voglia di essere di primeggiare di essere il migliore l'ambizione quel punto non è più soltanto un gioco ma diventa qualcosa di più grande i maestri diventano sempre più severi anno dopo anno le lezioni si aggiungono mi ricordo che iniziavo alle otto e mezzo della mattina avevo tutto il giorno lezioni prove alla sera andavo a scuola al liceo scientifico che era dalle 6 e mezza fino alle 10 e mezza era un liceo scientifico serale quindi erano giornate veramente molto molto intense complete fatte soltanto di lavoro e di studio poi diventi un'etuale diventi visibile a tutti ma c'è un momento in cui forse il più severo sei tu stesso nei tuoi confronti e questo passa penso attraverso l'esercizio con quell'amico nemico che ha lo specchio e la sbarra lo specchio sì assolutamente devo dire che già dalla scuola di ballo sono sempre stato molto esigente nei miei confronti molto severo e ci sono stati tantissimi momenti dopo le lezioni dopo le prove in cui rimanevo in sala ballo da solo a provare a riprovare perché non ero contento non ero sicuro anche per insicurezza comunque per la ricerca della perfezione di un gesto per affinare qualcosa per riuscire a fare meglio è bellissimo questo perché da una fotografia assolutamente simbolica tu che sei da solo davanti allo specchio che lavori e li incontri proprio per questa solitudine luogo di incontro diventa con Nurev e lì cambia la vita? E lì è sicuramente cambiato qualcosa perché l'incontro con Nurev mi ha dato una sicurezza in me stesso in quello che sarebbe stato il mio futuro nell'ambito della danza e chiaramente quando sei in scuola di ballo ci sono sempre tante incertezze non sai mai se quella sarà la tua professione o meno ecco essere scelto da Nurev per un ruolo importante come Morta Venezia per essere con lui sul palcoscenico avere l'occhio del grande maestro puntato su di me anche se poi Morta Venezia non sono riuscito a farlo non sono andato in scena con quel ruolo ma ecco il fatto che lui tra tutti i ragazzi possibili che poteva scegliere avesse scelto me che non mi conosceva mi aveva visto soltanto un paio di volte alla scala in quell'occasione ecco questo per me è stato molto molto importante nella calligrafia che riesci a fare col corpo sul palco in questi gesti codificati qual è il valore che poi dai all'interpretazione o meglio ancora qual è la libertà nel rifare sempre questi gesti uguali? per fortuna ci sono tanti tanti ruoli che sono artisticamente molto belli interessanti di grande valore artistico che sto interpretando come appunto De Grieux nell'Histoire de Manon come Onyeghin appunto nell'Onyeghin di Cranco o anche ruoli più contemporanei come il Bolero di Bejar e sono ruoli in cui l'interpretazione è veramente determinante quello che riesci a dare ogni volta anche in maniera diversa al personaggio cambia e ogni volta che si riaffronta il personaggio ecco senti che puoi dare qualcosa in più perché sei maturato come persona sei cambiato hai più esperienza di vita quindi anche il personaggio acquisisce una verità diversa è bello quando riesci a portare in scena la verità dei sentimenti hai usato spesso la parola incertezze quando definisci l'atmosfera in cui stai cercando costruendo il gesto il personaggio e anche lì c'è di mezzo la solitudine prima di fare quel passo che poi ti fa arrivare sotto le luci dei riflettori ho usato la parola e uso la parola incertezza perché c'è molta incertezza dietro quello che noi facciamo per quanto sia duro e costante il lavoro in sala andare in scena è sempre un grande punto interrogativo uno spettacolo è uno spettacolo live quindi può succedere qualunque cosa gli incogniti sono tante però è un rapporto molto intimo con te stesso perché poi in scena sei da solo e ogni volta che vai in scena veramente ti metti alla prova devi dimostrare di essere all'altezza hai gli occhi puntati di tutti e c'è una grande pressione responsabilità per Roberto Bole cos'è l'errore in questo momento? Nel tempo ho cambiato un po' il mio approccio verso l'errore e verso gli errori anche che si fanno in scena perché prima una sbavatura tecnica comprometteva tutto lo spettacolo ecco adesso col tempo capisci che tutti noi appunto siamo umani quindi ci può essere la sbavatura tecnica l'importante è riuscire a coinvolgere lo spettatore a essere presente essere carismatico guardi più al complesso dello spettacolo della performance di quello che stai portando in scena anche il piccolo errore chiaramente quando è piccolo riesco a perdonarmelo di più si diventa in quello un po' più indulgenti riesci a perdonatelo un pochettino di più un pochettino di più non troppo un pochettino siccome tu lavori con il corpo che è il tuo violino senti che cambia proprio anche il corpo col passare del tempo il corpo cambia cambia tantissimo sicuramente bisogna avere una grande intelligenza per continuare a sentire il proprio corpo a conoscerlo ad adattarsi a quelle che sono le sue esigenze spesso gli atleti hanno dei momenti in cui si preparano poi hanno le gare poi hanno dei momenti di defaticamento non fanno niente ci sono i massaggi hanno le stagioni il nostro lavoro è costante abbiamo una produzione dietro l'altra ogni giorno ci alleniamo è un lavoro che ti impegna tanto e chiede al fisico tanto per tanti anni tu sei diventato anche una sorta di ambasciatore della danza e quindi come dire sei uscito anche dai luoghi tradizionali questa voglia di uscire dal margine è una vocazione che senti è qualcosa che è nato anche qui forse per le opportunità è nato per le opportunità a un certo punto con il mio galla Roberto Bolle in France ho avuto la possibilità di portarlo in luoghi che non erano quelli dei soliti teatri in un posto come Piazza Duomo qui a Milano piuttosto che Piazza Eplebiscito a Napoli o il Colosseo a Roma in Italia e nel mondo in più era un periodo in cui partecipazioni televisive il Giubileo della Regina le Olimpiadi a Torino quindi avevo la possibilità di fare qualcosa che non era mai stato fatto e da lì ho voluto fare qualcosa di più quindi c'è stata la volontà di abbattere delle barriere e di usare questa forza e questa occasione che io avevo per portare la danza quella bella quella di qualità ad altre persone farla conoscere il più possibile perché spesso le persone non si avvicinano perché non la conoscono ci sono dei pregiudizi legati alla danza si pensa che sia qualcosa di troppo distante di troppo raffinato di troppo elevato e invece capita persone che vengono a vedere gli spettacoli per la prima volta e dicono non pensavo che uno spettacolo di danza potesse essere coinvolgente potesse emozionarmi ho capito proprio il potenziale che c'è dietro questa arte che è un potenziale non ancora pienamente espresso danza con me non aumentano non ancora pieno ».